Buongiorno FTO Online, parte male la settimana per la borsa, abbiamo infatti il nostro Fuzi Mib che cede il 2% circa, siamo intorno ai 21.200 punti, male anche il DAX come si vede dal grafico Entraday che vede l'indice nuovamente in area 12.130 perciò in prossimità dei minimi toccati settimana scorsa, anche il nostro Fuzi Mib come si vede dal grafico Entraday sta mettendo sotto pressione supporti molto rilevanti, andiamo quindi a guardare più in generale il grafico per i principali indici, partiamo proprio dal Fuzi Mib e dal DAX, come vi dicevo sul Fuzi Mib siamo in prossimità dei livelli di supporto molto rilevanti, ovvero i minimi di fine maggio toccati a 21.122 punti, questa mattina i minimi ho toccato a 21.249 quindi siamo veramente molto vicini a quei livelli. Certo gli ottimisti potrebbero dire che quello che stiamo vedendo in preparazione è un potenziale doppio minimo, quindi una figura dalle implicazioni rialziste, un'ipotesi che ovviamente va presa in seria considerazione ma che per il momento è ben lontana da realizzarsi, tanto più che venerdì abbiamo visto i massimi di seduti in area 21.8.50 andare a scontrarsi con la media mobile esponenziale a 20 giorni che ha respinto al mittente le prospettive rialziste di vedere appunto toccato il lato alto del nostro potenziale doppio minimo, ovvero sia il picco del 14 giugno a 22.516 punti. Questa fascia in ogni caso è una fascia da considerare con grande attenzione, se dovessimo avere il debordo al di sotto della base di questo trading range ci sarebbe un rischio elevato di proseguimento della fase ribassista vista dai massimi di inizio maggio, invece la rottura come abbiamo detto dei massimi di giugno in quel caso sgombrerebbe il campo dal timore dei nuovi cali prospettando un avvio di movimento a rialzo. Il baricento di questo trading range ovvero sia la sua metà si colloca esattamente dove sono i massimi di venerdì, ovvero sia intorno ai 21.850 punti, solo a di sopra di quei livelli possibilità di ritornare ai 22.5, come abbiamo detto invece sotto 21.100 grave segnale di debolezza, grave quanto il primo target che viene da indicare è quello dato dalla proiezione dell'ampiezza della fase laterale verso il basso, si colloca quindi intorno ai 19.650 punti. Sotto 21.100 quindi il rischio elevato di movimenti in quell'area. È evidente che la violazione di area 21.100 poteva avere implicazioni anche maggiori rispetto al test di area 19.650 perché in quel caso avremmo l'avvio di una correzione stesa di tutto il rialzo che c'è stato dai minimi del giugno del 2016, i ritracciamenti di Fibonacci calcolati per quel rialzo ci fanno vedere che il 61.8% è 18.600 quindi sotto area 19.650-700 che coincide col 50% di 3, avremmo un rischio di calo di altri 1000 punti. Una situazione molto simile si sta delineando anche sul DAX, questa mattina abbiamo detto che il DAX è molto vicino ai minimi toccati settimana scorsa, sul grafico intraday abbiamo visto che c'è la comparsa di un potenziale triplo minimo, infatti se andiamo a guardare i massimi del 27, quelli toccati poi il 28 e quelli di oggi sono tutti sugli stessi livelli, posizionati poco o di sopra dei 12.100 punti, quindi effettivamente le oscillazioni intraday delle ultime sedute hanno dato luogo a una potenziale figura rialzista, un triplo minimo che però verrebbe confermato solo oltre 12.420, se invece dovessimo scendere al di sotto di area 12.100, in quel caso torniamo sul nostro grafico giornaliero, avremmo una prospettiva concreta non solo di ricopertura del gap rialzista del 5 di aprile con una base a 12.000 punti circa, ma anche probabilmente di un test dei minimi di marzo a 11.726 punti. Oggi è quindi una giornata cruciale, abbiamo visto Fuzzimib e DAX su supporti relevanti, se dovessimo vedere il mercato che si deteriora ulteriormente da livelli attuali ci sarebbe da iniziare a preoccuparsi seriamente. Cosa possono fare i più aggressivi? Ovviamente, data la vicinanza ai supporti così rilevanti, possono anche provare questa mattina a comprare su prezzi attuali, sperando in un rimbalzo e come abbiamo visto soprattutto per quello che riguarda il Fuzzimib, forse l'indice sul quale l'attività di trading è maggiore, inizialmente puntare al target dei 21.800-825 punti. Sopra quei livelli poi si aprirebbero nuovi spazi di crescita. Guardiamo rapidamente anche cosa succede negli altri mercati, questa mattina se andiamo a guardare sul nostro sito il commento per l'apertura vediamo che ci sono indicazioni negative anche per il mercato giapponese, infatti il mercato giapponese in forte ribasso, Nikkei poco fa ha chiuso a meno 2,21% in flessione anche le borse cinesi, sì perché questo avvio di settimana debole non dipende solo dalla situazione critica del quadro politico in Germania ma ovviamente sempre anche dal timore di una escalation della guerra commerciale che l'America sta aprendo su più fronti. Guardiamo quindi il Nikkei che come abbiamo detto stamattina è in calo di più del 2%, sul Nikkei si è registrato questo potenziale doppio massimo, a questo punto direi doppio massimo perché la violazione di quota 21,9 e 30 sarebbe stato il segnale di completamento della figura. A questo punto c'è da aspettarsi il test della trend line che sale dai minimi del settembre del 2017 passa a 20.900 punti circa ma se dovessimo scendere anche di sotto i quei livelli sul Nikkei si potrebbe avviare un vero e proprio trend al ribasso, un destino che non è relativo solo alla borsa giapponese ma potrebbe coinvolgere anche altri mercati, infatti se andiamo a guardare il nostro Nasdaq, il mercato di riferimento per quello che riguarda gli Stati Uniti in quanto essendo composto da titoli a beta più elevato rispetto all'S&P 500 risponde più rapidamente agli stimoli che provengono dal mondo esterno, supporto critico a 7.485, media mobile esponenziale a 50 giorni, sotto quei livelli ulteriore supporto a 7.315 ma in ogni caso è evidente che guardando il grafico di più lungo termine da inizio anno il Nasdaq ha perso decisamente di accelerazione e rialzo, se andiamo a calcolare la retta di regressione lineare per tutto il periodo di rialzo dai minimi di inizio 2016 vedete la retta a questa inclinazione, descrive anche in maniera molto efficace l'andamento del mercato ma se andiamo a calcolare la stessa retta da inizio anno ci accorgiamo che l'inclinazione è calata, c'è quindi ovviamente una perdita di forza da parte del mercato, questo significa che potrebbe essere tutta questa zona che abbiamo evidenziato all'interno del cerchio un'area di distribuzione, quindi una fase preparatoria ad un ribasso, ancora non parliamo di ribasso, ancora c'è un mercato che formalmente è in crescita perché gli ultimi minimi come vedete il minimo di gennaio e il minimo di aprile sono crescenti così come gli ultimi due massimi, quello di giugno ma la perdita di forza è evidente, sicuramente da non sottovalutare anche l'andamento dei mercati cinesi, qui abbiamo Shanghai e Shenzhen, oggi Hong Kong era chiusa per festività, vedete come c'è stata una evidente accelerazione ribassista sul mercato cinese, questa è la borsa di Shanghai, c'era questo canale crescente che i prezzi avevano disegnato dai minimi di inizio 2016 un canale la cui base è stata violata nel corso del mese di maggio e nel mese di giugno c'è stata una decisa accelerazione a ribasso, è evidente che un canale di questo tipo ha caratteristiche correttive perché ha un'inclinazione molto più ridotta rispetto al movimento precedente, quindi abbiamo avuto una forte fase discendente dall'inizio 2015 all'inizio 2016, lunga correzione durata due anni ma che in due anni non è riuscita a recuperare se non il 38,2% esattamente del ribasso precedente e poi nuovamente il movimento di ripresa del ribasso con violazione di tutte le medie mobili principali, se ne anche a vedere ad esempio la medie mobili a 200 giorni esponenziale, vediamo come ormai non solo si è stata violata il ribasso a inizio anno ma come abbia assunto anche un andamento decrescente dopo una parabola, dopo un tentativo di crescita durato circa un anno, quindi tutti i presupposti per un proseguimento del calo della borsa cinese a questo punto ci sono, dando ragione all'ipotesi che questa fase contenuta all'interno del canale sia stato un flag e quindi una bandiera, la ripresa del ribasso rischia di portarci bene al di sotto inizio 2016 e più probabilmente di fare ritracciare completamente al mercato tutto il rialzo dai minimi del 2013, quindi sulla borsa cinese c'è il rischio di un approfondimento e evidentemente questo scompenso potrebbe poi danneggiare tutti i principali mercati mondiali, quindi un momento di grande attenzione sui principali indici europei, in particolare il nostro Futsimismo, anche sul DAX c'è ancora da appigliarsi a un supporto molto vicino dal quale questa mattina i prezzi stanno cercando di reagire, attenzione perché però il contesto internazionale non depone certo in favore di un proseguimento di questo rimbalzo, quindi come dicevo aggressivamente nel brevissimo si possono anche tentare posizioni d'acquisto, io agli investitori più prudenti consiglierei di sfruttare eventuali rimbalzi per neutralizzare o alleggerire posizioni a rialzo in attesa di capire che cosa succederà nel prossimo futuro. Le domande riguardano questa mattina Ricordati e sul quale ci sono motivazioni di ribasso che hanno a che fare con prospettive tecniche, quindi se andiamo a guardare sul nostro commento penso che fosse riportato qualcosa relativamente a Ricordati, infatti Piomba ha ribosso i quota da 28 Euro e il prezzo dell'OPA che sarà lanciata da CVC Capital dopo l'acquisizione del 51% da FIMEI per circa 3 miliardi di Euro, quindi siamo arrivati con i prezzi attuali a ridosso del prezzo dell'OPA, direi che non si tratta quindi di un'occasione d'acquisto ma si tratta di rimanere qui per vedere se ci saranno poi possibilità di un miglioramento di questo prezzo, ma raggiunta la quota del prezzo dell'OPA direi che la situazione dovrebbe stabilizzarsi, invece per quello che riguarda l'altra domanda era relativa a Interpump, di Interpump se non sbaglio avevamo già parlato recentemente, vediamo se riesco a recuperare rapidamente il grafico, vi invito come sempre a suggerirci quelli che sono i temi di maggiore del vostro interesse, vi consiglio sempre però anche di andare a guardare le analisi passate per capire se ci sono già stati trattati i temi che in questo momento volete seguire, comunque questa mattina Interpump è in caldo del 2,25%, minimo a 25,94 Euro, 25.94 Euro il minimo odierno, siamo pertanto esattamente a ridosso del minimo del 28 giugno, toccato a 25,90 Euro, se ci dovesse essere la perdita di questo supporto temo che per Interpump potrebbe avviarsi una fase di calo, vedete infatti come in area 25,90 transiti anche questa importante linea di tendenza, potrebbe avviarsi una fase di calo più sostenuta. La strategia esattamente si può replicare qui quello che abbiamo detto per gli indici, essendo a ridosso di un supporto molto importante, aggressivamente si possono anche tentare acquisti con stop subito di sotto del minimo di 25,90 Euro, ma si tratterebbe appunto di acquisto contro tendenza, quindi una strategia riservata solo ai più aggressivi che operano nel breve termine. Con questo vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero. Grazie a tutti.